Che giornata, eh? Eh sì. Cioè fa freddo, però si sta bene lo stesso. Quando è che hai scelto di fare Castità? Possiamo paragonare la nostra vita, no? A un vestito. Un vestito che magari tuo padre e tua madre ti hanno comprato fin da piccolo, no? Bianco. Bianco, pulito. Tu poi vivendo, vivendo ti va di fare quell'esperienza e ti vai a rotolare nella terra e ti sporchi. E quelle macchie, anche se innavate, non vanno più via. Beh, è un po' così anche il valore della Castità, no? Nel momento in cui ti accorgi che hai quasi sprecato un dono che ti era stato fatto, ti accorgi che la macchia è rimasta. Però la cosa bella poi della religione, dell'amore di Dio, è che pone a tutto un rimedio. Cioè, stando con Gesù tutto viene fatto nuovo. Ecco, forse da piccola ero un po' spaventata dall'idea di condividere tutto con una persona e poi di botto non condividere più nulla, soprattutto i sentimenti. è di conseguenza la parte fisica, la parte più materiale di una storia. La parte più bella della vita è quando tu senti la libertà anche all'interno di una norma, di un valore, no? Vedi il valore come qualcosa che ti orienta, no? Non ti incatena, ma ti fa sentire più libera, no? Come un po' con i gabbiani. Seguono la legge della natura. E si sentono liberi. Nessuno li costringe eppure seguono la legge della natura. Gesù non mi dice di non avere rapporti, Gesù non mi dice, non mi obbliga. Sono io che scelgo lui. Nel fidanzamento tu puoi sperimentare la tenerezza, puoi sperimentare la purezza di uno sguardo, puoi sperimentare il sentirti scelta e scegliere una persona per quello che è, non per quello che ti dà. Da tutti i punti di vista, fisico, materiale, vorrei far sperimentare a tutti la bellezza. La bellezza è la pienezza, al contrario di quello che si può immaginare. Di cosa? La pienezza di quando tu incontri la persona che ami, con la quale stai costruendo dei progetti, dei sogni insieme, e c'è la bellezza di godersi il momento per quello che è, non per quello che potrebbe essere, scoprendosi o con un intento malizioso. Questo è l'amore puro, questo è il fidanzamento. Tu ogni passo che fai, se vuoi raggiungere qualsiasi posto, fai un passo dopo l'altro, non puoi arrivare immediatamente al posto che desideri, dove hai bisogno di fare qualcosa. Se devi andare al porto, hai bisogno di, o in macchina, o a piedi, o in bicicletta, o in tram, hai bisogno di percorrere un tragitto. È la stessa cosa in qualsiasi aspetto della nostra vita. Non puoi arrivare immediatamente da qualche parte, devi decidere di metterti in un cammino. E la cosa bella e affascinante è vivere ogni passo che fai come già il traguardo. E quando ti sposi? A breve? Presto, quando Dio vuole. Pure? Ma decide anche lui, ma fa gli inviti. No, te lo fa sentire nel cuore. Decide tutto? No, ti lascia decidere tutto, in lui e con lui. Speriamo che non inviti pure tanta gente, perché sapessi quanto posso sposarsi. No, io ho intenzione di invitare tutti quelli che non mi possono fare il regalo. Ah, ok. Sì, tutti quelli che conosco e che non hanno una lira. E che non hanno soprattutto in una famiglia. Beh, quindi io ci sto sicuro. Io dentro ci sto sicuro. Certo.